ANSA, Trento, 14-8, è iniziato a Trento, nel Polo di Povo, il primo hackathon del calcio. Una maratona di 24 ore alla quale partecipano 180 hacker, innovatori e startupper. Duplice l'obiettivo? E elaborare algoritmi che permettano di studiare. Quali saranno i cambiamenti del calcio del futuro, da un lato, e dall'altro avvicinare questo sport al milione, e 300 mila tesserati e ai 32 milioni di tifosi italiani attraverso la matcanalisis? E, sottolineano gli organizzatori, il primo hackathon istituzionale al mondo, il primo organizzato da una federazione. A spiegare nel dettaglio l'evento Niccolo Donna, responsabile del Centro Studi FIGC, che in un incontro con la stampa sottolinea la voglia di colmare la distanza attualmente esistente fra federazione e tesserati. Delle loro attitudini e capacità, dice, non sappiamo nulla? Attraverso lo studio dei dati, saremo in grado di sviluppare non solo il calcio del futuro, ma anche il calciatore del futuro.